Il labirinto al centro dell'incontro multidisciplinare andato in scena all'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli. Organizzato da Art 1307, il convegno dal titolo Dal Labirinto ha preso spunto dalla mostra dell'architetta Donatella Mazzoleni, in programma fino a gennaio nella Galleria d'Arte di Posillipo dell'Istituzione Culturale, curata da Cinzia Penna. Questo è il momento teorico di discorso sull'essenza, sulla funzione, sul significato del labirinto ed è qualcosa che fortemente abbiamo voluto Donatella Mazzoleni ed io proprio per discutere di questa figura che attrae l'uomo da millenni. Il labirinto è stato analizzato in tutte le sue possibili forme, da quelle architettoniche e di paesaggio, a quelle scientifiche e psichiatriche, fino alle sue caratterizzazioni storiche in ambito artistico. Alla discussione hanno preso parte tra gli altri la storica dell'arte Gabriella Esposito, l'architetto Giuseppe Anzani, lo psichiatra Giovanni De Renzis, l'artista Daniela Morante e il musicista Antonello Paliotti. Il labirinto sicuramente è un'iconografia, un simbolo antichissimo che risale alla notte dei tempi. In ambito artistico, oltre a un'epoca romana, classica, medievale e rinascimentale, sicuramente è interessante l'utilizzo che è stato fatto in epoca contemporanea, dalle avanguardie storiche. Il labirinto della mente è quello dal quale provengono i labirinti della mostra. Il labirinto della mente è quello che continuamente noi facciamo nel nostro pensiero, in cui il passato e il presente sono continuamente messi in una sorta di contaminazione l'uno con l'altro. Il labirinto ha a che fare con una sorta di avventura dentro di sé, quindi si percorre spesso sul foglio bianco, sulla tela, cercando le strade giuste. Forse è la città labirinto per eccellenza, Napoli, perché per le contraddizioni e per la linearità dei movimenti che bisogna fare per conoscerla. Soddisfazione nelle parole dell'artista e architetta Donatella Mazzoleni che spiega. Sia difficile sviscerare il tema del labirinto perché è un tema estremamente complesso che ha tante implicazioni non solo mentali, come dire, intellettuali, ma anche emozionali, quindi in certo senso viscerali. E mi fa molto piacere che oggi ne parlino persone di vari campi disciplinari, dall'architettura, l'architettura del paesaggio, la critica letteraria, la filosofia, la psicoanalisi e anche l'arte terapia, quindi il modo in cui questo archetipo del labirinto ha anche dei valori a volte terapeutici. Sono molto contenta di questo confronto. Grazie. 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 Grazie.